Una bellissima sorpresa questa serata e questa presentazione in un luogo assolutamente favoloso siamo arrivati in auto con motore Ferrari e non potevamo che parlare della Ferrari una platea molto affettuosa e un clima veramente straordinario viene voglia di tornare non solo d'estate ma forse anche a qualche altro periodo dell'anno stasera abbiamo parlato di questo libro unico dentro la scuderia è l'unico libro al mondo che parla della Ferrari e della fabbrica e delle sue trasformazioni da quando è nata fino ai giorni nostri ci sono tutte le immagini storiche che la Ferrari ci ha gentilmente concesso e che ci raccontano questa evoluzione durata per tutti questi anni che ha resistito a tutte le crisi, a tutte le situazioni più disparate che le aziende subiscono e che affrontano anno dopo anno e fino ad arrivare a questi risultati ci dicevano che le ultime statistiche di vendita sono di 61 auto al giorno prodotte questi sono i risultati di chi ha saputo lavorare per anni e ha costruito questo grande patrimonio che è fatto come abbiamo ascoltato dalle parole di Enzo Ferrari che sono raccontate in questo libro è fatto di parole queste parole sono fatte da uomini quindi sono gli uomini il valore primario queste sono le parole di Enzo Ferrari ripeto che ci ha lasciato e questo è un grande insegnamento anche per gli imprenditori che oggi portano avanti con fatica e con difficoltà questa realtà che stiamo gestendo grazie a tutti